Come funziona AstraZeneca? Allora, l'AstraZeneca è un vaccino con vettore, cioè il vettore è un adenovirus di un scimpanzè che è innocuo per gli umani. Questo adenovirus contiene il materiale genetico solo per la codifica della proteina Spike. Il virus veicola all'interno della cellula umana questa parte genetica. La nostra cellula produce questa proteina, questa proteina funge da antigene e il nostro sistema immunitario produce anticorpi e anche le cellule immunitarie specifiche.